le collezioni di paolo paoli new seguici su youtube e facebook ciao a tutti amici iscritti ovvero salve a tutti salve ciao a tutti amici di collezionisti e cartoni animati oggi andremo a vedere una serie delle merendine kinder e ferrero ma in verità non ci sono nelle merendine ferrero ma li potete trovare nelle merendine kinder questo qua come kinder brioche ho rovinato la confezione del supermercato poi vabbè oggi facciamo una recensione di kinder brioche le mascherine marvel non le mascherine a vabbè le mascherine marvel in ogni confezione uno tra le 12 maschere dei supereroi marvel qua abbiamo in anteprima iron man sto tizio qua maiz morales e qua c'è spider man con le serie ragnatele i kinder brioche li mangio sempre ma beh quelli di marca non è convince sono migliori quelle di discount in realtà le collezioni paolo paolo new a volte ci sono io a volte c'è te di seccato quindi non mi giudicate con una bella confezione roviniamo tutto la confessione vabbè marvel in ogni confessione da ritagliare dal cartoncino sei carte da gioco dei supereroi marvel qua abbiamo in anteprima spider man star lord e iron man scopri tutti i giochi possibili su www.kinder.com www.kinder.com scopri il fantastico mondo di kinder e marvel inquadrando il cool code vabbè in ogni confessione una maschera da ritagliare dal cartoncino una maschera di supereroi marvel cioè quella di maiz morales e quella di iron man poi vediamo se c'è anche delle altre merende vabbè apriamo con il mister forbice ci vediamo tra poco queste merendine kinder brioche non c'è la sorpresa all'interno ma sono solo merendine di kinder brioche da mangiare si solo le merendine perché la sorpresa la sorpresa che si trova nelle merendine ferrero schinder queste sono sul cartoncino capito qua c'è ritagliate le carte con l'aiuto di un adulto lungo le linee atleteggiati abbiamo trovato la card di capitan marvel la card di miss marvel si capitan marvel ma perché si chiama capitan marvel statizia volete chiedermi un aiuto poi perché miss marvel assomiglia molto a un personaggio di andry danger o i thunderman e poi c'è anche hulk la carta di hulk acqua c'è marvel scopri tutti i giochi con le carte marvel su www.kinder.com scopri il fantastico mondo di kinder e marvel ci sono tutti gli avengers al completo qua abbiamo anche shi hulk ma in verità di shi hulk si chiama gamora non lo conosco questa avengers verde questo è un'altra avengers verde gamora ok vabbè torniamo che si trovano le card sia dei buoni sia dei cattivi quindi ok si vede bene mike di thor ma perché c'è thor al femminile c'è thor al femminile mike di thor va bene mike di thor thor al femminile vabbè e poi c'è thanos va bene e qua c'è una card a caso che c'è scritto capitan marvel questa qua capitan marvel è la leader degli avengers ok e thanos e qua c'è scritto un confronto epico tra giustizia e tirania capita marvel dotata di poteri cosmici si scontra con thanos un'eternità malvagia in cerca di il buono contro il cattivo di equilibrio universale la loro battaglia epica mentre il gioco il destino dell'universo si diversi gli universi mostrando la forza della volontà e il coraggio del fonteggiare il male ecco è la maschera abbiamo trovato la maschera di capitan marvel scoprite le 12 maschere marvel per avventure supereroiche ritagliate con l'aiuto dell'adulto si lungo le linee tratteggiate per ricavare le maschere da superero e bella maschera qua si vede bene così qua è il sito della kinder marvel si maschera dal cartoncino 6 carte da gioco di supereroi marvel da ritagliare potete trovare nelle merendine kinder colazione più kinder colazione più integrale kinder pane cioc quello classico kinder brioche latte cacao e kinder brioche capito si trovano in questi cinque pacchi di merendine a kinder e qua potete vabbè quale merendine kinder potete adesso adesso nel periodo le sorprese si possono salvare solo nel cartoncino del adesso delle carte da ritagliare con la maschera di un personaggio della marvel quindi vabbè questo è tutto per la recensione della merendine kinder brioche le mascherine marvel vero iscrivetevi al canale di paolo paoli new mettete più mi piace condividete e commentate ciao le collezioni di paolo paoli new seguici su youtube facebook e instagram ciao 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 ciao